Come diceva lo zio, la mafia la sconfiggerà un esercito di maestre che cresceranno i bambini con valori che li tengano lontani e li portino a condannare e a combattere quel fenomeno che avvelena la nostra società che è la mafia. Così Claudio Fiore, nipote del giudice Paolo Borsellino che insieme ad altri ospiti oggi 23 maggio ha ricordato la strage di Capaci del 1992, una giornata incontro presso l'auditorium di Piazza Bonaparte a San Miniato con le scuole del territorio. Al centro della discussione ovviamente i temi della legalità e della lotta alle mafie. La Toscana è una terra che deve continuare a impegnarsi su questi temi, lo deve fare soprattutto con le ragazze e i ragazzi più giovani, loro sono il vaccino per combattere l'illegalità. Oggi ricordare vuol dire ricordare ai ragazzi e ai ragazzi qual è la parte giusta della storia da cui stare, quella della legalità, quella del rispetto dei valori della nostra Costituzione e loro potranno essere i testimoni attivi di un tempo da vivere in maniera diversa è migliore perché quello che è accaduto non riaccada mai più. Attraverso la morte di Falcone Borsellino l'Italia ha preso coscienza di ciò che vuol dire mafia e legalità. Passi in avanti sono stati fatti ma la strada è ancora lunga, le mafie oggi sono meno sanguinare ma comunque presenti, afferma Mazzeo. Quindi fondamentale che le nuove generazioni non perdano memoria di ciò che è stato provando con i propri mezzi a cambiare le cose. E pensando alla Toscana, proprio in questi ultimi mesi il problema di infiltrazioni mafiose si è fatto forte, indispensabile quindi intervenire. Un tempo differente, 30 anni fa la mafia pensava uccidendo Falcone, a luglio poi Borsellino, Rocco Chinnici, Don Puglisi, tanti altri, pensava con la violenza, con la forza di allontanare lo Stato. Oggi è diverso, le mafie continuano a esistere, purtroppo provano ad infiltrarsi anche nei nostri territori in modo differente, entrando nell'economia, strangolando le aziende. È un modo diverso di essere mafia e noi dobbiamo combatterla però allo stesso modo perché la criminalità organizzata è un male, è un cancro di questo paese e va debellato. Noi abbiamo messo in piedi una grande iniziativa insieme a Libera per parlare alle ragazze e ragazzi per insegnargli qual è la parte giusta da acquistare. Abbiamo istituito un osservatorio per la legalità, lo stiamo facendo con forza perché ci rendiamo conto che servono anticorpi, anticorpi per fermare tutto questo e la politica e le istituzioni devono essere in prima linea. A gran forza, aggiunge Zappolini, oggi bisogna chiedere verità e giustizia perché ricordo che ad esempio non abbiamo ancora i mandanti a 30 anni di distanza da quei brutti fatti e pericolosi sono ancora gli intrecci politici. Siamo qua per ricordare ma anche per rendere onore al loro desiderio di giustizia, non abbassando la guardia, aspettando e chiedendo la verità da parte delle istituzioni. Toscana continua a Zappolini sensibile ai temi dell'antimafia e della legalità, purtroppo però afferma una regione che si dimostra ancora permeabile agli influssi degli interessi mafiosi. Attraverso business e di guadagni la mafia riesce davvero a intaccare anche il sistema economico della nostra regione, un po' per ingenuità, un po' per complicità e quindi c'è bisogno che quindi uno scatto di orgoglio e di attenzione, specialmente da parte delle istituzioni politiche. Dal Consiglio regionale arriva il via libera al bilancio previsionale 2022-2024 dell'azienda regionale per il diritto allo studio universitario, un sì accompagnato da diverse raccomandazioni ad iniziare dalla richiesta di efficientamento dei servizi mensa e alloggio, ad illustrare l'atto la Presidente della Commissione Cultura e Scuola. Al momento ci troviamo in una condizione per la quale la Giunta ha effettuato minori stanziamenti all'azienda per il diritto allo studio, dato che ha preoccupato gli studenti generando un po' di fibrillazione. Con gli atti che abbiamo approvato abbiamo avuto garanzie dalla Giunta che le somme al momento non attribuiti a DSU verranno reintegrate nel corso del 2023-2024 sul pluriennale e abbiamo anche con l'ordine del giorno collegato al parere chiesto di poter monitorare in Quinta Commissione che davvero questo avvenga e quali saranno i tempi di questo reintegro delle somme necessarie a coprire l'intero importo delle borse di studio. Questa Regione ha un elemento di vanto nella sua prestazione perché copre da sempre tutte le richieste di borse di studio per gli studenti del diritto allo studio e vorremmo mantenere alto, mantenere questo livello di prestazione. Quindi monitoreremo e vorrei rassicurare gli studenti perché il Consiglio regionale e la Commissione Quinta saranno attenti a questa loro esigenza. Emerge un dato che preoccupa, cala il numero delle richieste di borse di studio. Che abbiamo paura vada di pari passo con il calo di iscrizioni all'università. Qualora fosse così abbiamo chiesto alla Giunta di monitorare questo elemento e di eventualmente insieme all'azienda per il diritto allo studio farsi promotrice di progetti che sostengano la richiesta di iscrizione all'università perché sappiamo che i giovani laureati non solo trovano più lavoro, hanno più chance di impiegarsi ma anche ottengono impieghi meglio remunerati e condizioni di lavoro migliore. Voto contrario dalle opposizioni per la Lega, diverse sono le criticità nel bilancio. La più importante è il fatto che la Giunta regionale, mi sono portata al foglio per non sbagliarmi, ha ridotto i contributi di 700 mila euro per il 2022, di 7 milioni e 4 per il 2023 e di 12 milioni e 575 mila euro per il 2024, che sono tanti soldi che vanno a scapito delle borse di studio e anche dei ricavi dell'azienda. Ora si è impegnata a ricercare questi soldi però ancora ora in questo momento non ci sono. Altre criticità sono la mancanza della certificazione antincendio in diverse residenze degli studenti che non sono state messe a norma e che si spera che verranno fatte, ci hanno promesso entro il 2024 ma i tempi poi chissà se saranno rispettati. Infine che c'è da dire? C'è da dire che continuano a crescere i costi unitari per i vari servizi. E infine voglio ricordare che la soddisfazione degli studenti in un sondaggio che hanno fatto risulta il 6,36%, quindi appena sopra la sufficienza perché è su 10, il 6,36 su 10 e mi sembra un po' bassa. E per ultimo voglio ricordare che il Parlamento degli studenti continua a dire che ci sono criticità tra le tre università, in particolare per quanto riguarda i trasporti e la sanità, cioè riscontrano differenze in questi due settori. L'Aula del Consiglio regionale ha approvato con 20 voti a favore, 8 astenuti e 2 contrari, il Movimento 5 Stelle, la legge che disciplina l'olio turismo e l'ospitalità agrituristica apportando modifiche alla legge regionale del 2003. Come ha spiegato la Presidente della Commissione Sviluppo Economico, Ilaria Bugetti, queste modifiche rispondono alle disposizioni nazionali che estendono all'olio turismo quanto già previsto per l'enoturismo. Sì, è una proposta di legge che va ad integrare, ad arricchire il panorama e l'offerta degli agriturismi riguardo all'olio turismo e anche all'enoturismo. In particolare si va a rivedere quelli che sono i posti letto portando a due letti aggiuntivi per accogliere nuclei familiari negli agriturismi, si va a permettere la trasformazione di volumetrie in aggiunta agli edifici esistenti, quindi là dove non ci siano opere di urbanizzazione primaria da fare, quindi dando una mano alle attività agrituristiche, a consentire la somministrazione di cibi caldi per la degustazione dei prodotti tipici e a consentire anche la promozione di eventi sociali e di eventi di qualsiasi tipo nelle pertinenze e nella disponibilità delle singole aziende della Toscana. Recependo quindi quella che è un'attività importante per la nostra gastronomia ma anche per il nostro turismo. La pandemia ci ha sicuramente offerto e arricchito questa immagine del turismo toscano che è un turismo slow che va a valorizzare la ricchezza delle nostre colline e dei nostri territori. Questa legge in qualche modo va ancora e va incontro a quelle che sono le nuove esperienze e soprattutto va a regolamentare come si disciplina l'olioturismo. Quindi pensiamo che dalla regione toscana arrivi un pezzo in più che sicuramente migliora il nostro patrimonio agro e turistico. Si tratta di interventi normativi molto attesi dagli operatori perché ci sono alcune limitazioni dal punto di vista delle norme che non rendono facilissima l'attività per gli agriturismo laddove si tratta soprattutto di ristrutturazioni di ambienti esistenti e anche di ambienti che ricadono magari con le aziende molto grandi e molto estese su territori limitrofi in comuni diversi. Quindi si è cercato naturalmente di semplificare e dall'altra parte anche di spingere l'olioturismo, l'enoturismo cioè tutte quelle attività collaterali e le produzioni agricole più pregiate della regione toscana che garantiscono flussi turistici ma un turismo lento che approfondisce, che staziona anche nella campagna bellissima toscana e che va a visitare le città d'arte. Sicuramente novità importanti perché è stata approvata una legge, la 79, che in qualche modo favorisce l'attività agrituristica e l'olioturismo. Noi ci siamo astenuti perché comunque non ravvediamo nella legge alcuni caratteri di legittimità e ovviamente abbiamo cercato di renderla tale con un emendamento in particolare all'articolo 7 che poi era sostanzialmente la nostra proposta di legge che constava solo di un articolo e che partiva da un presupposto, il presupposto che l'agricoltura è in crisi, il delta di guadagno per un agricoltore tra ciò che spende e ciò che incassa è veramente risibile per cui l'attività agrituristica collegata all'attività agricola era sicuramente un qualche cosa da fare e da svolgere. Il Partito Democratico ha fatto una legge che sostanzialmente ricalca nelle more quella che era stata la nostra e che appunto era precedente alla loro, l'hanno ampliata e concettualmente se verrà mantenuta potrà dare delle boccate di ossigeno agli agricoltori. Abbiamo però alcuni dubbi sulla legittimità legale di questa. Vediamo come andrà. Parere favorevole dell'Aula al bilancio preventivo 2022 pluriannale 22-24 del Consorzio Lamma il Servizio Meteorologico della Toscana. 19 voti a favore, 9 astinuti. Come illustrato dalla Presidente della Commissione Ambiente, il valore della produzione del Consorzio si attesta su 4 milioni e 700 mila euro, il 5% in più rispetto al 2021. I ricavi commerciali sfiorano gli 80 mila euro e sono rappresentati dai contratti con Autostrade, Consorzio di Bonifica, Osservatorio Europeo-Australe. Sì, approvando il bilancio di previsione, è un istituto ormai importante, tanto importante per la regione toscana, per i servizi che fa, per la qualità dei servizi che offre, che ne beneficiano molti comuni, l'amministrazione, la regione stessa in questo caso, ma che è conosciuto dai più per l'attendibilità delle previsioni meteorologiche che forse tutti guardano dai turisti, agli agricoltori, alle persone che lavorano. Quindi per noi un consorzio, ricordiamo che c'è dietro il CNR, quindi dal punto di vista tecnico e tecnologico è assolutamente all'avanguardia, un consorzio sempre da sostenere, se possibile anche implementare dal punto di vista del contributo per far sì che le tecnologie siano sempre più all'altezza. Capecchi di Fratelli d'Italia parla di buon operato del consorzio, ma ha sottolineato la mozione respinta delle minoranze che puntava alla promozione dei servizi meteo dello stesso consorzio. Sì, l'AMA da parte di Fratelli d'Italia è considerata un'eccellenza in una regione ricca di turismo come la nostra, è importantissimo avere previsioni meteorologiche assolutamente attendibili, addirittura avevamo chiesto, purtroppo la mozione ci è stata respinta dalla maggioranza, avevamo chiesto di stanziare più risorse per una migliore e più efficace comunicazione da parte dell'AMMA attraverso soprattutto i social, perché conoscere oggi in tempo reale le previsioni del tempo, soprattutto in montagna ma anche al mare, aiuta tantissimo il turismo perché ci sono tante offerte low cost, tante offerte last minute che in qualche modo influenzano le presenze sia in montagna che al mare. In più non ci scordiamo l'attività che l'AMMA fa sia sotto il profilo oceanografico di ricerca e soprattutto nei casi di protezione civile, quindi è un consorzio che per noi va sostenuto e valorizzato. Grazie per la visione!